vediamo insieme una scheda di quiz ministeriali per l'esame della patente b attraverso la nostra applicazione gratuita guida con me di cui trovate il link sotto il video se vi sarà piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale per ricevere le comunicazioni sui nuovi caricamenti e soprattutto se volete chiarimenti sui quiz di questo video mettete un post e noi vi risponderemo l'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli l'isola di traffico che può essere dipinta raso sulla carreggiata o rialzata serve per incanalare i veicoli in determinate direzioni e sull'isola di traffico non si può fermarsi né sostare e nemmeno a passarci sopra quindi la risposta corretta è falso il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia si tratta di un segnale di pericolo di doppia curva pericolosa ovviamente in un tratto di strada a limitata visibilità non è consentita mai l'inversione di marcia perché non possiamo vedere se arrivano veicoli a cui dare la precedenza quindi la risposta corretta è falso in presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli si tratta infatti di un segnale di divieto di transito per gli auto veicoli quindi i motocicli sono ammessi perché sono moto veicoli la risposta corretta è quindi vero il segnale raffigurato indica che ci si può fermare sulla sinistra della strada è un segnale di prescrizione di obbligo e indica che dobbiamo necessariamente proseguire verso sinistra quindi la risposta corretta è falso il segnale raffigurato preannuncia la presenza di una barriera doganale è un segnale di prescrizione di precedenza è un preavviso di dare precedenza perché a 320 metri troveremo uno stop con l'obbligo di arresto assoluto per dare la precedenza a chi arriva da destra e da sinistra quindi la risposta corretta è falso il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione essendo un segnale di precedenza cioè dare precedenza destra sinistra è anche un segnale di prescrizione cioè in poche parole appartiene alla categoria generale dei segnali di prescrizione e alla sottocategoria della prescrizione di precedenza quindi la risposta corretta è vero la striscia bianca discontinua in figura consente di circolare stando a cavallo di essa attenzione non si può marciare a cavallo delle strisce nemmeno se sono discontinue possono essere oltrepassate soltanto per cambiare corsia la risposta corretta è quindi falso il semaforo in figura impone ai motocicli di rallentare quando è acceso il triangolo giallo è un semaforo rivolto ai mezzi pubblici quindi non certo ai motocicli e quindi la risposta corretta è falso il segnale raffigurato indica una postazione mobile di polizia nelle vicinanze è un segnale di indicazione e indica una zona di campeggio per tende e caravan quindi la risposta corretta è ovviamente falso il cono raffigurato si usa per indicare un parcheggio riservato il cono raffigurato è un segnale complementare che si usa in serie per tracciare una striscia continua cioè la serie di coni equivale a una striscia continua quindi invalicabile quindi non indica un parcheggio riservato la risposta corretta è falso il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta inizio in quel punto certamente è un inizio del segnale della prescrizione di divieto di sosta che inizia appunto dopo il segnale la risposta corretta è vero la velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione è una norma generale che naturalmente è vera sulla distanza di sicurezza influiscono l'aderenza e le condizioni dei pneumatici che contribuiscono all'aderenza e quindi in caso di frenatura devono essere il più possibile in buono stato la risposta corretta è vero la distanza di sicurezza commisurata anche al tipo di veicolo che segue in realtà non ci interessa affatto il veicolo che segue ma soltanto il veicolo che ci precede quindi la risposta corretta è falso è opportuno che il conducente di un veicolo quando in un centro abitato si imbatte in un corteo se proprio a molta fretta passi rapidamente usando il clacson in maniera continua ovviamente è un'affermazione falsa perché non si può né attraversare né sorpassare i cortei è vietato in quanto costituisce pericolo intralcio per la circolazione gareggiare in velocità intendendosi anche accelerare quando si viene sorpassati quindi la risposta corretta è vero secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo r passa per primo in quanto ha la destra libera quindi la risposta corretta è vero il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare la risposta corretta è vero la fermata è vietata sul margine destro della carreggiata non si vede perché debba essere vietata quindi la risposta corretta è falso se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità la risposta è corretta e falso in quanto va lasciato il cambio in folle perché altrimenti qualsiasi marcia creerebbe un attrito e una resistenza al traino il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre il veicolo su strada sta urbana la risposta corretta è falso in ogni caso va sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione la spia di accensione delle luci abbaglianti di colore rosso è invece di colore blu è l'unica spia blu perché gli abbaglianti devono distinguersi dalle altre luci in quanto possono essere pericolosi per gli altri quindi la risposta corretta è falso le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza naturalmente devono avere con sé un certificato medico che li esonera la risposta corretta è vero la patente am consente a chi ha compiuto 14 anni di condurre i ciclomotori in tutti i paesi dell'unione europea non è così dipende da quali paesi e quindi bisogna distinguere non in tutti i paesi valgono i 14 anni quindi la risposta corretta è falso il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente della targhe dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate la risposta corretta è vero l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali ovviamente è un'affermazione assurda quindi la risposta corretta sarà falso l'alcol può causare uno stato di euforia con conseguente sottovalutazione del pericolo la risposta corretta è vero le polizze assicurative stipulate di solito per coprire i danni da furto incendio atti vandalici eventi naturali o danni al proprio veicolo polizza casco non sono obbligatorie infatti la polizza assicurativa obbligatoria la rca è quella per danni a terzi e solo quella tutto il resto è facoltativo quindi la risposta corretta è vero tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minore consumo di carburante teniamo presente che i produttori di autoveicoli progettano il consumo del veicolo la sua velocità massima eccetera in funzione dell'aerodinamicità del veicolo stesso e la migliore aerodinamicità è quella con i finestrini chiusi e il tettuccio chiuso perché altrimenti l'aria che dovesse entrare frenerebbe farebbe da ostacolo entrano all'abitacolo e quindi naturalmente aumenterebbe i consumi di carburante quindi la risposta corretta è falso il coefficiente di aderenza basso favorisce lo slittamento in curva se c'è scarsa aderenza quindi l'aderenza è bassa naturalmente c'è più possibilità di slittare la risposta corretta è vero abbiamo superato l'esame col cento per cento delle risposte esatte tuttavia attraverso la nostra applicazione possiamo controllare tutte le risposte nella lista che abbiamo sotto ma anche quiz per quiz in questo modo noi vi diamo appuntamento alla prossima scheda di esame augurandovi un buono studio